Amici di Gicase, buongiorno dal lago di Zeo e per l'esattezza da Parzanica, dalla sponda bergamasca del lago di Zeo. Splendida località collinare qui che domina il lago di Zeo e quella che vedete là in fondo che è Monte Isola. I tetti che vedete qua sotto è della residenza Borgo dei Glicini, dove abbiamo un appartamento in offerta clamoroso che adesso vi mostro. Un piano terra con giardino arredato in maniera splendida. Innanzitutto buon lunedì 9 agosto, molti di voi saranno sui lettini del mare o su in qualche rifuso in montagna, quindi questo video anche se in diretta potrete vederlo sempre offline sui nostri canali, sia il nostro canale YouTube che sulla nostra pagina Facebook dove siete adesso, che sulla pagina Instagram. Eccoci qua, io sto scendendo come vedete verso il lago, quindi verso l'ingresso dove vedete le macchine là in fondo, sulla destra c'è un cancello privato elettrico che porta al posto auto privato. Qui abbiamo un appartamento da 107.000 euro che riusciamo a vendervi compreso di tutto, di arredamento, compreso di posto auto e di tutto quello che adesso vi mostrerò. Entriamo, qui vi faccio vedere anche perché questo è un residence con piscina, quindi ha delle caratteristiche davvero di vacanza. Poi qua siamo in una zona collinare, quindi l'assenza totale di zanzare, la meraviglia di essere poggiati al sole tutto il giorno con questa brezza che non so se si percepisce magari nel microfono. Eccoci qua. Allora, sulla sinistra qua adesso vedete delle auto, lì c'è uno dei posti auto privati della residenza. Noi stiamo entrando, qua c'è Edoardo che ci sta passando. Eccoci qua. Questa è la piscina privata. Adesso per questione di privacy eviteremo di avvicinarci dove c'è gente che giustamente in questo periodo di vacanza si sta sollazzando nella piscina. Questa è la zona solarium e questo è il residence bellissimo. Quello è Emanuele, l'avrete conosciuto, e molti di voi hanno fatto appuntamenti anche con lui. E qui stiamo per entrare nell'appartamento. Guardate che meraviglia. Eccoci qua. Entriamo in questo giardino privato. I proprietari gentilmente mi hanno fatto aprire l'ombrellone, la zona tavolo per pranzare fuori all'ombra. Guardate, due lettini per godersi il sole e la splendida vista che c'è. Si sono in grand'angolo ma la vista reale del lago è così, eh. È così come la vedete. Ecco, io sono col grand'angolo per farvi apprezzare meglio gli spazi. Eccoci qua. Noi entriamo nell'appartamento. Guardate che meraviglia, eh. Vedrete che è arredato in maniera splendida. Guardate, questo è innanzitutto un divano letto matrimoniale. Guardate, questa è la zona cottura. Guardate gli letto domestici come sono spettacolari. Il tavolo con le sedie che si mettono sotto il tavolo e non danno fastidio. Guardate poi, faccio vedere lo spazio e il giardino esterno. E qui c'è il divano con la zona, con la zona tv. Ci hanno queste soluzioni, hanno ovviamente un riscaldamento centralizzato ma con il consumo privato. Hanno già i pannelli solari. Stiamo parlando di case recentissime. Video citofono, serramenti veramente bellissimi e nuovi. Spese condominali siamo sulle 800 euro all'anno. compreso del riscaldamento che però va conteggiato singolarmente ogni persona. Guardate la camera che bella. Guardate che meraviglia. Io ve la mostro un po' in tutti i dettagli. Poi chiaramente ci sono le fotografie sul nostro sito che è gcase.it però se avete delle altre domande fatemele pure anche nei commenti qui sotto. condividete il video anche degli amici che sapete che interessano soluzioni di questo tipo. Qui ritorno nel disimpegno. Qua si vede ancora la zona giorno. E qua invece è il bagno. Un bellissimo bagno. Vedete che ci sono i riscaldamenti con i caloriferi tradizionali in alluminio. Questo è l'attacco della lavatrice. Una bellissima scarpiera. Mentre di qua c'è vatre bidet sospesi e un box doccia veramente grande. Guardate com'è grande il box doccia. Nella sua doppia parete scorrevole in vetro. Finestrato quindi un bagno che dà la possibilità del ricambio d'aria tradizionale. Quindi senza reazioni forzate. Dalla camera invece andiamo nel retro. Così riesco a mostrarvi un po' tutto. Nel retro che diciamo quindi è la parte meno nobile dell'appartamento. Ma ha una zona infatti meravigliosa. Dove hai la possibilità di stare un po' al fresco. Quindi senza avere il sole addosso. Questa è la finestra del bagno che vedete. Poi la cosa molto interessante è questa cantinola. Visto che non si ha il box ma il posto auto privato. Si ha questo sottoscala privato. Dove è un ricovero attrezzi, stenditoio, scale. Quindi molto molto interessante. Qua siamo nel retro dell'appartamento. Da cui si accede dalla camera matrimoniale. Che avete visto che ora vi rimostro rientrando. Quindi vedete un letto matrimoniale bellissimo. Un armadio a specchio che dà ancora più grandezza al locale. Vedete? Comodini. Quello che vedete è lo sportello da cui si vedono i consumi del riscaldamento. Che ripeto sono conteggiati a ogni singolo appartamento. Quindi c'è una spesa comune che è nelle spese condominali. E anche il riscaldamento in base proprio al consumo. Rientriamo nella zona giorno. Quindi la sua cucina, il suo tavolo. E il suo divano. Guardate poi ecco la cosa interessante di queste soluzioni è avere uno spazio esterno davvero importante. Quindi c'è spazio sia per i lettini che il suo tavolo per mangiare fuori, per pranzare fuori. Con una bella vista lago che apre sempre un pochino il cuore. Vi rimostro ancora la zona piscina. Come vedete questo è un residence carino. Molto intimo. E quindi la zona che vedete inerbata è per prendere il sole. Però poi ognuno c'è proprio giardino, proprio terrazzo. Quindi si riesce a godersi tranquillamente. Anche in questo periodo dove c'è molto afflusso non c'è caos come vedete. Questa è la palazzina dall'esterno. Io spero di avervi dato un buono spunto per una casa al lago. Vi ripeto costa 107.000 euro. Come l'avete vista, arredata, compreso di posto auto. L'unica cosa che viene portata via sono i mobili esterni. Quindi il tavolo esterno e i lettini. Ma per il resto la casa viene lasciata esattamente come l'avete vista. Salvo gli oggetti personali. Qui ripeto ci troviamo a Parzanica sul lago di Zeo. Residence con piscina. 107.000 euro. Per qualsiasi cosa, come al solito, tutti i miei contatti li conoscete già. Ma ve li scrivo sempre subito sotto. E a presto da Stefano e da tutto lo staff di casa.